Amici di Pausa Caffè, bentornati in questo nuovissimo video, un salutone grande da Max e prima di andare a conoscere Lavinia, che è la nuova tronista di Uomini e Donne, lasciate un bel pollicione in su, un like per supportare questo canale, ma andiamo avanti subito con le novità. Lunedì 19 settembre alle ore 14.45, sì lo so, è lo stesso giorno dell'inizio di altri grandi spettacoli come il grande fratello VIP, quello sarà un giorno, ah infatti è lunedì, è l'inizio della settimana, ma è una settimana che sarà di fuoco secondo me. Andrà in onda su Canale 5, quindi la prima puntata del popolare show condotto da Maria De Filippi, dove le prime puntate dovrebbero essere registrate diciamo in questi giorni, presso gli studi Elios di Roma, dove solitamente vengono fatte le registrazioni. Attenzione perché c'è chi ha notato che Ida Platano proprio in queste ore si trova in vacanza in Sicilia e dunque si dice che la dama non prenderà parte al programma, anche se potrebbero facilmente essere soltanto dicerie. Quel che è certo è che ci saranno ben quattro nuovi tronisti, due uomini e due donne, così per fare, per pareggiare la situazione, ma nei giorni scorsi si era parlato di una novità, mentre il quarto sarà deciso dal partero over tra due persone che si presenteranno alla registrazione della trasmissione. Nel frattempo è uscito fuori il nome della prima tronista, quindi Lavinia, come dal titolo di questo video. WittTV ha già caricato il video di presentazione di Lavinia, che se volete potete andare a vedere lì, ma lo dice lei stessa, sono Lavinia, ho 26 anni, sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio scienze politiche e relazioni internazionali, mi mancano sei esami alla laurea e adesso ne sto preparando due, speriamo vadano bene. Vivo con la mia famiglia, papà avvocato, mamma imprenditrice e sorella ingegnere. Con mia mamma siamo una cosa sola, andiamo molto d'accordo. Con mia sorella ci vogliamo un bene dell'anima anche se litighiamo spesso e papà è giovanile, ma anche all'antica. Tutte e due allo stesso tempo. I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla e sono un po' viziata, devo ammetterlo. Ci hanno sempre fatto frequentare le migliori scuole. Mamma è severa, mentre papà ci ha sempre viziato. E infine, signori, arriva l'identikit del suo uomo ideale, quindi già parte alla grande, dicendo Ho sofferto per amore, ma non l'ho mai fatto vedere. Piuttosto mi lacero dentro, ma non lo faccio vedere. Ma se mi lego, do veramente tutto. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo, per conquistarmi, deve essere paziente, tenace e non deve mai farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e aspetto sempre il primo passo. L'uomo deve essere uomo. Prometto di essere me stessa e ci metterò il cuore. Insomma, signori, con queste dichiarazioni ha promesso che cercherà di dare il top del top, ma di essere se stessa. La conosceremo meglio nei prossimi video e quindi quando ci saranno poi le prime puntate del programma. Per ora è tutto. Un salutone grande da Max. Ci vedremo alla prossima, sempre qui. Vi aspetto su Pausa Caffè.